Grazie Presidente, anche in questo caso parliamo di sport e parliamo di tutela della salute. Questa mozione richiede un impegno molto concreto in quanto il ruolo dello sport come farmaco, come vero e proprio farmaco, è stato già riconosciuto a livello mondiale da una decina di anni e ci sono anche alcune regioni italiane, ad esempio l'Emilia Romagna, la Toscana, la Sardegna, la Lombardia che sperimentalmente stanno tentando di attuare questo sistema. Cosa significa? Che è stato appunto dimostrato scientificamente che l'attività sportiva produce dei benefici sia dal punto di vista delle prevenzioni di determinate malattie sia anche per quanto riguarda la guarigione da altro tipo di malattie, motivo per cui appunto il sistema sanitario nazionale potrebbe prevedere, così come vengono prescritti dei farmaci, di prescrivere tot ore di attività fisica proprio per curarsi. E appunto questo già sperimentalmente è stato tentato da alcune regioni e vorremmo che questo si possa fare anche nel Lazio e in particolare per realizzare questa mozione sarà necessario naturalmente anche individuare le strutture dove effettuare sport. Infatti si prevede appunto che l'attività sportiva venga effettuata in luoghi adatti. Da questo punto di vista l'amministrazione comunale può certamente contribuire e aiutare la regione a realizzare questo impegno in quanto le strutture appunto di proprietà pubblica non mancano e quindi ci impegniamo ad inviare un elenco di cosiddette palestre sicure alla regione in modo tale che si possa anche nella regione Lazio seguire il buon esempio di altre regioni. Grazie.